Musica Federica Argentati sta per cedere lo scettro di Reginetta, al via l'edizione 2024 di Miss Conero Fashion, chermessa itinerante organizzata da Ancon Grafica con l'avvio nella tappa del 5 luglio a Castelfidardo. Cinque gli appuntamenti in cui protagonista sarà la bellezza a 360 gradi, insieme alle Miss infatti la solidarietà con il sostegno alle patronesse del pediatrico Salesi e soprattutto le eccellenze dell'artigianato locale nei settori moda, accessori, gioielli e le imprese del comparto beauty di Confartigianato Ancona-Pesaro-Urbino. La Miss Conero quest'anno ha una marcia in più, ormai l'undicesima edizione, siamo accompagnati dalla Via Maestra che appunto sarà presente in tutte le serate con degli artigiani, ma a dire artigiani secondo me è un po' restrittiva come cosa perché sono dei veri artisti che producono accessori, accessori moda oggettistica e quindi quest'anno avremo questo elemento in più. Inizieremo da Castelfidardo che sarà il 5 di luglio per poi proseguire al Playa Solero il 25 luglio, 30 agosto Senigallia, 31 agosto Sirolo, 28 settembre Teatro delle Muse per il Gran Galà finale. Abbiamo già promosso la bellezza dell'artigianato artistico quando anni fa abbiamo realizzato delle campagne di comunicazione coinvolgendo anche l'ex Miss Italia Marchigiana e la di Francisca. La Via Maestra è un progetto che nasce dieci anni fa con l'obiettivo proprio di valorizzare e promuovere le botteghe dell'artigianato artistico e cerchiamo di farlo ogni anno con strumenti, con modalità innovative e nuove. Le aziende che hanno aderito dell'artigianato artistico metteranno a disposizione i loro prodotti per abbellire le ragazze che sfilano e per arricchire la parte scenografica e quindi il palcoscenico. In un momento in cui la moda vive un momento difficile, manifestazioni come queste possono essere una ribalta utile? Sì, certamente, perché manifestazioni come Miss Conero Fashion, essendo una manifestazione itinerante, porta una vetrina per i maestri artigiani dei loro prodotti in giro per i borghi. Sicuramente è un aiuto a tutti i nostri associati, a tutti i nostri amici artigiani. Un'iniziativa a tutto tondo, come ci piace in questo senso definirla, che mette insieme una vera e propria filiera, il territorio, le imprese, le istituzioni. Quindi ecco, un collettivo, un gruppo che lavora rispetto all'obiettivo finale, che è quello appunto di valorizzare il benessere, la moda a tutto tondo e soprattutto proporre le imprese del nostro territorio nei nostri territori. Sicuramente questo è un evento che arricchisce tutto questo cartellone e fa anche un po' da ciliegina sulla torta di un'estate intensa che con budget e tutto sommato contenuti rispetto alla quantità e l'offerta di eventi siamo riusciti a dare. Sostenuta dalla Confartigianato anche la manifestazione sportiva Ancona Bike Festival il prossimo weekend 29-30 giugno dal centro città alla Riviera del Conero. Da un lato centriamo l'obiettivo, cioè fare sport e farlo anche in una disciplina molto ludica come la bicicletta, ma allo stesso tempo si lanciano anche dei messaggi di aggregazione sociale, di comunità, ma anche di prevenzione per la salute. Ovviamente chi fa sport ha una marcia in più per stare meglio.